Ciao a tutti, ciao a tutti, Andrea Alessio, siamo tornati stavolta con una challenge che ci avete proposto voi tra l'altro. Soprattutto vorrei ringraziare The Anonymous Tube che ci segue, è un grande fan. Ci ha proposto di fare la Whisper Challenge. Stiamo pronti per farlo, guardate, sono le cuffie. Io direi di iniziare subito, inizio io. Quindi lui si mette le cuffie, tieni. Ok. Facciamo la prova. Per ora sento ragazzi, per ora sento. Siamo in collegamento dallo stadio, dice Sena, Manuzzi. Faccio la musica. Ora non si sente più niente. Spero ti piaccia la musica. Ti piace la musica? Possiamo iniziare? Ti piace la musica ho detto. Hai iniziato? No. Ok, va bene. Iniziamo? Sì, iniziamo. Ok. Che hai fatto oggi? Levati. Sì, levati. Levati. Lavati. Lavati. Ti sei lavato oggi? Lavati. Ti sei lavato oggi? Oggi ti sei lavato? Oggi hai lavato? Tu ti sei lavato oggi? Oggi ti sei lavato? Tu ti sei lavato? Tu ti sei lavato? Eh, sì o no? Ti sei lavato? Sì o no? Eh, che ne so. La domanda iniziale era diversa però. Eravamo partita. Che hai fatto oggi? Otto. Otto. Che hai fatto oggi? Non ti capisco. Va bene. Va bene. Va bene? Non c'entrava niente ma ha capito. Perciò, che hai fatto oggi? Che hai fatto oggi? Sì, vai dimmelo. Ho lavorato. Cosa hai fatto? Ho aperto gli ombrelloni. Com'era il mare? A mare. Grazie, che è stato l'ombrellone. Com'era il mare? Bellissimo. C'era scirocco. Molto bene, molto bene. Cosa ho detto? Molto bene. Il mare? No, no, molto bene. C'erano persone a mare? No, no, non ho detto niente di questo. Stai andando molto bene. Stai andando molto bene. La canzone, cioè, che canzone stai ascoltando? Ci sei andato? Che canzone stai ascoltando? Ma che canzone non ti capisci? Che canzone stai ascoltando? Ma come cazzo fa? Che canzone, canzone. A scuola ci sei andato? No, perché a scuola. È una domanda? Sì. Che canzone, musica. 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 Eh, cosa stai ascoltando? Hai sentito la musica? Che musica ti senti? Eh 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 eh. Faded. 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 Quindi ragazzi adesso tocca a me. Ti metto una bella canzone. Guardate. 3, 2, 1. Via. Mi senti? Allora iniziamo Allora Tu mi devi dire Che hai detto? Tu mi devi dire Ok Di dove gioca Dove gioca? Non gridare Dove gioca Pjanic? Chi? Pjanic Non lo capisco Dove gioca Pjanic? Non ti rispondo È romanista Si è casato alla Juventus Quindi mi dispiace da lui Allora Mi devi dire una cosa Mi devi dire una cosa Una cosa Mi devi dire una cosa Allora Gli esami quando ce l'hai Domani Bravissimo Ho capito che c'è sta? Esatto Ho detto Non gridare Non gridare Quando gioca l'Italia Non urlare Non gridare Bene Sto bene Non come stai Non Non gridare Non gridare Non ho capito Non Non lo ho capito Non Si Non 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 Gridare Non imitare Non gridare Non andare Non gridare Non cantare Gridare Non Gridare Non parlare Gridare Non gridare Bravo Scusate Finalmente Dopo anni Allora Ma stai che ti mi dà la musica Ti sento Cambiamo musica Ti senti? Ah Va bene Perfetto Allora Oggi Che giorno è? Domani Oggi Che giorno è? 16 Esatto Mi ha sentito Quindi Dove giocava Capitan Zanetti In Francia Incredibile Cambia versione Incredibilmente Giusto? No Dove giocava Capitan Zanetti Non lo capito Dove Giocava Capitan Zanetti Dove giocava Chi? Capitan Zanetti Javier Zanetti Liverpool Bellissimo Gerard No Javier Zanetti Braccio Palestra Javier Zanetti Tatuaggio Dove giocava Javier Zanetti Dove giocava Chi? Zanetti Zanetti Tu Zanetti 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 Sì E chi era Chi era? Chi era il giocatore? Numero 4 Zanetti Zanetti Bravo Ok ragazzi Quindi speriamo che questa challenge vi sia piaciuta Bellissimo Secondo me è stata bella Sembrava lui un poco muto E poi c'è stato un colpo bellissimo Va bene ragazzi Continuate a seguirci Esatto quindi per oggi è tutto Sì c'è la notizia Erips Ciao